Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Anna e come ogni martedì e ogni sabato sono qua con voi con un nuovo video e quest'oggi voglio ritornare sul tema delle rivalità nella vecchia Hollywood e voglio parlare proprio della assoluta rivalità fra due grandissime sorelle, Olivia de Avilan e Joan Fontaine. E se vi piacciono le tematiche che tratto iscrivetevi al canale oppure lasciatemi anche un like e iniziamo subito col video. Al termine di questo video ci saranno sempre dei titoli che io vi consiglio per chi volesse approfondire l'argomento. Allora, le due sorelle Olivia e Joan nascono a Tokyo dal padre che era Walter Augustus de Avilan, un avvocato che aveva lo studio a Tokyo, mentre la madre era Lilian Augusta Rius, un'attrice. Poco dopo la nascita della secondogenita Joan, verso il 1925, quando Olivia aveva solamente tre anni e quindi la sorella minore avrà avuto poco più di un anno e mezzo se le due hanno una differenza di 15 mesi, i genitori decidono di separarsi e la madre si risposerà dopo pochi mesi con George Milan Fontaine, da cui prenderà poi il nome d'arte di Lilian Fontaine. Le due sorelle però ebbero sin dall'infanzia un rapporto molto teso, caratterizzato da antagonismi e da una elevata competitività, perché infatti litigavano per ogni cosa, per i vestiti da indossare e Joan era molto invidiosa, gelosa del fatto che Olivia, secondo lei, fosse la preferita dalla madre. Una volta, anni dopo, Olivia avrebbe detto che il nostro problema più grande era che dovevamo condividere una stanza. I loro scontri erano quindi frequenti, con schiaffi, tirate di capelli e Joan avrebbe anche accusato Olivia di rompere i vestiti che le erano diventati troppo piccoli, pur di non farli indossare alla sorella Joan, quindi pestifere proprio. Nella rivista Life del 1942 si legge All'età di nove anni, Joan decise che avrebbe ucciso sua sorella. Pensò tutto attentamente, avrebbe lasciato che Olivia la colpisse una volta e poi di nuovo, in silenzio, ma il terzo colpo avrebbe colpito Olivia in mezzo agli occhi. Joan si sarebbe difesa invocando il diritto all'autodifesa, ma ciò non avvenne mai, non ci fu bisogno, per fortuna, anche perché Olivia non dette mai più di un colpo alla sorella e quindi tutto il piano non venne realizzato. Verso i 15 anni, quando erano in piscina, Olivia spinge Joan per terra a bordo piscina, le cade addosso e le rompe la clavicola. Quindi erano molto carine queste sorelle fra di loro. Crescendo poi, questa competizione si sposta anche sul piano scolastico. Infatti Olivia vincerà un premio letterario con lo scritto Il mio testamento, in cui molto carinamente scrive, lascio a mia sorella la capacità di attrarre i ragazzi e i loro cuori, cosa che adesso non sa fare. Quindi, mentre Olivia trascorre le sue giornate fra la scuola, la compagnia di teatro, perché già inizia a studiare teatro e l'accompagnamento di questi allegri giovanotti, invece la sorellina Joan deve accontentarsi di parlare con i vicini sulle sue terapie perché soffriva di una salute abbastanza cagionevole, tant'è che non poteva svolgere quasi mai delle attività all'aperto, fisiche, non doveva stancarsi. Trascorreva molta parte delle sue giornate in camera, stesa sul letto, perché soffriva di una anemia molto molto forte che la rendeva quindi debole. Olivia fu la prima a intraprendere la carriera di attrice e quando Joan torna da Tokyo, dove è stata per uno o due anni insieme al padre, decide che anche lei vorrebbe iniziare la carriera d'attrice, tant'è che viene scelta da una compagnia della loro città per interpretare il ruolo di Alice in Alice nel Paese delle Meraviglie, ma la sua salute non le permette di partecipare a questo spettacolo e quindi guarda un po' il ruolo viene dato alla sorella Olivia che ha 17 anni e che così entra a far parte della compagnia teatrale di Saratoga. Olivia non vuole che la sorella cominci una carriera d'attrice, vuole che termini gli studi e anni dopo in un'intervista dirà suppongo che il modo in cui l'ho visto allora fosse che volevo Hollywood come mio dominio e la società di San Francisco come suo dominio. Quindi il fatto di aver scelto entrambe una carriera come attrici ha senza dubbio aumentato la competizione che c'era fra di loro, anche perché la carriera di Olivia comincia subito in pompa magna con due grandi successi nel film Il Capitano Blood del 1935 e Le avventure di Robin Hood del 1938 e la povera Joan invece in quel periodo cos'è che fa? Fa l'autista di Olivia la quale non sa guidare e quindi per essere accompagnata da casa sua agli studios della Warner si fa accompagnare dalla sorellina Joan che durante uno di questi tragitti viene però notata da un agente della Warner il quale le chiede se volesse e se fosse intenzionata a intraprendere una carriera nel mondo del cinema naturalmente Joan è molto gasata da quest'idea ma subito interviene la madre delle due sorelle la quale vieta a Joan di entrare a far parte degli studios di Olivia e inoltre deve cambiare anche il nome perché di The Aviland ce n'è già una che sta facendo carriera e quindi l'altra sarebbe stata solamente un impaccio e cita come esempio anche il caso delle due sorelle di Loretta Young che alla fine è diventata molto più famosa della sorella che prima di lei aveva iniziato a fare l'attrice che era Sally Blaine e fu così che Joan de Beauvoir si cerca un nome d'arte e come prima cosa sceglie Joan Barfield dal nome di una via di Hollywood ma non convinta lo cambia poi con Joan St. John ma una sera mentre si trova al night club il trocadero un veggente le legge la mano e le dice che se lei vuole avere successo deve trovarsi uno pseudonimo che termini con la e allora lei sceglie il cognome del patrigno e che sarebbe stato poi anche il nome d'arte della madre Fontaine e diventa così Joan Fontaine però per lei sarà sempre un dispiacere questa cosa di aver dovuto scegliere un nome d'arte infatti in un'intervista dichiarerà Joan Fontaine io non so chi sia la carriera di Joan però non fa subito faville perché inizia con un grandissimo flop nel film con Fred Astaire una damigella in pericolo nel 1939 però Joan sposa un ex fidanzato di Olivia un certo Brian Earn all'epoca il matrimonio era considerato un mezzo per completare la vita di una donna e il fatto che una si sposasse mentre la sorella maggiore era ancora zitella era visto proprio come un affronto infatti le sorelle minori prima di sposarsi dovevano attendere il matrimonio delle sorelle maggiori e come se ciò non bastasse la sera prima del matrimonio il fidanzato di allora di Olivia che era un certo Howard Ux confessa a Joan di essere innamorato di lei e di volerla sposare Joan naturalmente rifiuta spiffera tutto alla sorella Olivia la quale lascia Howard ma se la prende anche con la sorella Joan perché forse inconsciamente la considerava colpevole di questa della nascita di questo sentimento nel suo fidanzato e quando poi Joan avrà due figli perché lei avrà comunque quattro matrimoni e due figli a un certo punto con questi figli non avrà più un buon rapporto ma loro continueranno a sentirsi con la zia Olivia e anche questo sarà motivo di grande astio da parte di Joan sempre nel 1939 Olivia interpreta Melania in via col vento e anche la carriera di Joan finalmente prende l'avvio in maniera più decisa interpretando il ruolo di Rebecca in Rebecca la prima moglie di Hitchcock nel 1940 ma anche questi due successi non sono indolori perché e qui dovete seguirmi perché ci sono un bel po di teatrini allora il produttore David Selznick decide di voler effettuare la trasposizione cinematografica del libro via col vento di Margaret Mitchell e centinaia di attrici tentano quindi il provino per fare la parte di Scarlett perché nel libro Rossella Oara si chiama Scarlett ma il regista che doveva essere George Cukor convoca Joan per proporle la parte ma quando Joan scopre che la parte non è quella di Scarlett ma è quella secondaria di Melania allora avrebbe affermato perché non lo chiedi a la mia sorella Livy la Warner però all'epoca non prestava i suoi attori ad altri studios o ad altri progetti e quindi Olivia che tiene il provino per Melania in gran segreto riesce a fare a fare questo ruolo solo perché si mette in mezzo la moglie di Warner la quale convince il marito a prestare Olivia a Selznick e in cambio Selznick vi avrebbe dato avrebbe dato alla Warner un attore e che all'epoca stava iniziando ad avere successo che era James Stewart ma nel frattempo George Cukor che doveva essere il regista del film viene licenziato per dissapori col produttore Selznick e al suo posto verrà preso Victor Fleming e così Cukor comincia ad elaborare il progetto di un film è tutto al femminile in cui avrebbe preso parte delle attrici che erano state scartate dal via col vento e così insieme a Joan Crawford ci sarà anche la nostra Joan Fontaine e il film si intitola donne ma dopo via col vento che ha avuto grandissimo successo Selznick comincia a elaborare il progetto di un nuovo film che era appunto Rebecca la prima moglie per la regia di Alfred Hitchcock e Selznick vorrebbe Olivia ma sto giro la Warner proprio non la vuole più prestare la The Aviland soprattutto dopo il successo che via col vento aveva ottenuto e allora inizia così la ricerca di una nuova protagonista femminile che affianchi Lawrence Olivier il quale però per la parte di Rebecca voleva la sua fidanzata Vivien Lee ma in realtà Selznick nella notte della premiazione agli Oscar del 29 febbraio del 1940 dove via col vento vincerà ben 10 statuette vede Joan Fontaine e rimane folgorato e la vuole per il film quindi sarà Joan Fontaine la Rebecca e come dicevo appunto in quella notte degli Oscar erano Vivien Lee vincerà l'Oscar come miglior attrice protagonista ma come miglior attrice non protagonista erano candidati sia Olivia The Aviland sia l'attrice Hattie McDaniel che era la mami e vincerà lei vincerà la mami e Olivia che si aspettava comunque la vittoria reagirà malissimo infatti lì per lì va a nascondersi nelle cucine del ristorante dell'hotel che ospitava la cerimonia e i camerieri testimoniano che era molto nervosa aveva un pianto isterico poi a un punto si ricompone si asciuga le lacrime e va a congratularsi con l'attrice Hattie McDaniel e anzi dirà poi anche i giornalisti che la intervisteranno che lei in realtà era molto contenta per la vittoria dell'attrice Hattie McDaniels perché a pensarci bene Melania era una era un personaggio protagonista esattamente come Scarlett o Ara quindi lei era non poteva vincere l'Oscar come miglior attrice non protagonista perché era una protagonista a tutti gli effetti come Vivian Lee. Joan comunque ritornando al film Rebecca la prima moglie dirà di essere riuscita così bene nell'interpretazione di questo film perché si era ricordata aveva tenuto presente il sentimento di inferiorità che lei aveva sempre avuto nei confronti della sorella Olivia e che quindi ben si confaceva con il ruolo che doveva affrontare di questa seconda moglie che non riusciva a reggere il confronto con la prima moglie. Nel 1940 Hitchcock sceglierà ancora Joan per il film Il Sospetto con Cary Grant e nel 1942 entrambe le sorelle sono candidate all'Oscar come miglior attrice protagonista e Joan con appunto il film Il Sospetto mentre Olivia de Aviland con il film La Porta d'Oro di Mitchell Leeson. A spuntarla sarà Joan che però sentendosi sufficientemente in colpa per aver vinto l'Oscar e averlo quindi sottratto alla sorella, Lee Berlì non vuole partecipare alla cerimonia della premiazione ma la sorella Olivia che non vuole che la stampa alimenti ancora di più la diceria sui loro rapporti conflittuali convince Joan a partecipare e vanno insieme alla premiazione. Quando viene nominata Joan anche Olivia dice abbiamo vinto ma quando poi va a ritirare la statuetta Joan pensa a tutti i soprusi che secondo lei la sorella degli anni l'avrebbe fatto e quindi la snobba cioè quando Olivia si avvicina alla sorella per congratularsi lei le volta le spalle cosa che anche Olivia de Aviland farà nel 1947 quando vincerà l'Oscar con a ciascuno il suo e snobberà infatti la sorella Joan e dichiarerà per bocca del suo agente. Le due sorelle cioè farà dichiarare del suo agente. Le due sorelle non si parlano da quattro mesi e la signora di Aviland non intende essere fotografata con la sorella. È una cosa che va avanti da anni da quando erano bambine. Quando Olivia sposò lo scrittore Marcus Goodrich Joan molto carinamente disse tutto quello che so di lui è che aveva quattro mogli e ha scritto un libro. Peccato per Olivia che non sia il contrario. Anche Olivia però non vorrà mai che i suoi due figli avessero dei rapporti con la zia Joan. Olivia e Joan però hanno avuto anche dei brevi momenti distensivi come quando hanno partecipato entrambe a una festa in onore di Marlene Dietrich nel 1967. Ma la rottura definitiva avviene nel 1975 a causa della malattia e poi la morte della madre. Infatti nel 75 la madre delle due sorelle alla madre delle due sorelle viene trovato un tumore maligno incurabile. Però Olivia vuol fare comunque operare la madre mentre Joan non vuole perché la madre ha già 88 anni un'operazione sarebbe rischiosa. Però la madre viene fatta operare comunque e infatti muore sotto i ferri. allora Olivia manderà un telegramma alla sorella Joan per avvisarla della morte della madre. Ma Joan si trova in tournée con un suo spettacolo teatrale e Olivia non si informa dove sia lei esattamente in quel momento in quale luogo si trovasse. E così Joan viene a sapere della morte della madre con un ritardo di due settimane. Praticamente riceve il telegramma quando si reca nel luogo della tournée successivo a quello in cui si trovava. E inoltre Joan viene a sapere che la sorella ha anche organizzato la cerimonia funebre senza però passarle parola, senza mettersi d'accordo con lei. E allora Joan minaccia Olivia di spifferare tutta questa faccenda alla stampa se lei non verrà invitata alla cerimonia funebre. E così il funerale viene posticipato di qualche giorno per permettere anche a Joan di partecipare. Ma dell'esecuzione del testamento si occuperà solamente Olivia insieme a un esecutore testamentario. E nel testamento vengono citati solamente i figli di Olivia e non quelli di Joan. Inoltre Olivia deciderà di cremare il corpo della madre senza dire niente a Joan. E quindi il giorno della cerimonia funebre le due sorelle si passeranno quest'urna con dentro le ceneri senza né guardarsi né parlarsi. E dopo di allora non si parleranno assolutamente più. In un'intervista a People del 1978 per la promozione della sua autobiografia Joan dirà puoi divorziare da tua sorella e dai tuoi mariti. Non la vedo affatto e non intendo farlo. Sono stata la prima a sposarmi, la prima a vincere l'Oscar, la prima a diventare madre. Se morirò prima di lei la farò infuriare perché l'avrò battuta anche in quello. In occasione della cerimonia per il cinquantesimo degli Oscar, le due sorelle naturalmente partecipano ma vengono poste una a un'estremità diversa del palco per non farle incontrare. E quando nel 1989 saranno invitate al sessantesimo della premiazione degli Oscar, Joan si farà cambiare la stanza d'albergo quando scopre che la sorella aveva prenotato la stanza a fianco e dirà anzi che da quel momento lei non presenzierà assolutamente più agli anniversari degli Oscar. Nel 2013 a Olivia viene chiesto se farà mai pace con la sorella Joan e lei risponde meglio di no. Però Joan muore proprio quell'anno. Il 15 dicembre del 2013 muore per cause naturali alla veneranda età di 96 anni e Olivia stupisce e stupisce tutti perché dichiara «Sono rimasta scioccata e addolorata dalla scomparsa di mia sorella e io e mia nipote Deborah ci teniamo a ringraziare tutti quelli che ci hanno dimostrato compassione e generosità». Tant'è che si era anche pensato che forse fosse avvenuta anche una riconciliazione in segreto tra le due sorelle. Nel 2016, in occasione dei suoi 100 anni, Olivia de Aviland avrebbe dichiarato riguardo alla sorella «Una faida implica una condotta ostile continua tra due parti. Non riesco a pensare a un singolo caso in cui io abbia iniziato un comportamento ostile contro mia sorella». Quindi Olivia si scagiona totalmente. Anche lei però morirà per cause naturali a Parigi il 26 luglio del 2020, poco tempo fa, quindi all'età di 104 anni. Quindi le due sorelle sono state proprio longeve. Sono state le uniche due sorelle della storia di Hollywood ad aver vinto entrambe un Oscar come miglior attrice protagonista ed entrambe hanno una stella a loro dedicata nella famosissima Hollywood Walk of Fame. Il mio video termina qua. Se voi sapete di altre simpatiche angherie che le due sorelle si sono fatte l'una contro l'altra, scrivetele pure nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao! Ciao!